Abbiamo chiesto un'informativa urgente sulla quale possa rispondere il Ministro Salvini, soprattutto alla luce degli arresti che ci sono stati per corruzione e turbata libertà degli incanti in relazione ad appalti ANAS, il che ci preoccupa enormemente in considerazione di tantissimi appalti che anche il PNRR porterà. L'ordinanza è nei confronti di determinati soggetti che sono quelli destinatari della misura e si tratta di fatti che partono dall'aprile-maggio 2022 e arrivano aprile-maggio 2023, quindi sono fatti recentissimi, dice il giudice nell'ordinanza.